Un saluto a voi tutti, ben trovati, siamo nella sede di Commercio Provinciale a Varese con il suo Presidente Rudy Collini, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Siamo nell'ambito dei rinnovi, rinnovi che le singole Ascom vivono ciascuna sul proprio territorio, lei che è il Presidente Provinciale, come affronta questo rinnovamento? Abbiamo fatto un'assemblea conclusiva di questi cinque anni, dove abbiamo presentato un mandato sicuramente complicato, difficile, ma allo stesso tempo anche ricco di contenuti e di tante cose che sono state fatte, quindi siamo ancora motivati ad affrontare al meglio i prossimi cinque anni, quindi anche i rinnovi che ci saranno nelle cinque territoriali, perché noi partiamo molto dal basso, quindi abbiamo tutte le categorie che entrano nel panorama del terziario, quindi abbiamo circa 30 categorie differenti, in ognuna di queste si candidano dei fiduciari che a loro volta poi, una volta nominati, costituiscono le assemblee locali, dove vengono nominati poi i consigli, i consigli nominano i Presidenti, poi c'è un'assemblea provinciale che tra le cinque territoriali, che sono appunto quella di Saronno, Busto, Gallarate, Varese e Luino, vanno a nominare il Presidente provinciale, quindi è articolata, complessa, ma dà la possibilità di essere veramente presenti sul territorio, di conoscere la realtà del mondo del commercio e di cercare al nostro meglio di affrontare i temi, le difficoltà e supportare il mondo dell'economia del terziario ad affrontare chiaramente i temi difficili che oggi stiamo tutti assieme affrontando. No, sorrido perché questo spirito così articolato, questa organizzazione quasi liturgica dà l'idea ancora di un'associazione che ci tiene molto alla fisicità, alla presenza, al contatto, tutte parole che insomma la modernità sta un po' sgretolando. Però i negozi sono fisici a tutti gli effetti, per quanto il mondo virtuale e le opportunità che la tecnologia ha messo a disposizione siano ormai quasi integrate nella fisicità di un negozio o devono sempre più esserlo, noi siamo ancora fisici, l'importanza del mondo, del commercio tradizionale è un presidio. Oggi noi lo diciamo spesso, chi fa commercio non fa solo impresa, che è chiaramente la base di un'attività, ma fa soprattutto un servizio sociale. Quindi noi oggi essere presenti nei centri storici, nelle periferie, facciamo un servizio alla comunità, perché la nostra presenza dà opportunità chiaramente a chi ci vive di trovare un servizio, diamo una capacità di illuminazione e di sicurezza, perché dove c'è un'attività che apre dal mattino alla sera e nei pubblici esercizi presto al mattino e chiude tardi alla sera vuol dire un presidio costante sul territorio. Ed essere presenti dà sicurezza alle persone, perché anche chi vi abita sente che c'è una comunità attiva al proprio interno, ma dà anche valore immobiliare, perché nel momento in cui in una via dovessero chiudere tante attività commerciali, perché andarci a vivere e di conseguenza perché implementare altri servizi quando già non c'è un'offerta presente e a quel punto inizia il degrado. Quindi questo funziona nei centri storici come funziona nelle periferie. Il nostro ruolo è un ruolo importante anche di interlocuzione costante con le pubbliche amministrazioni, perché quando anche un assessore, lo stesso sindaco ha bisogno di organizzare qualcosa o di costruire qualcosa nella sua città che amministra, noi siamo degli interlocutori importanti con i quali confrontarci, ma non per tirare l'acqua al nostro mulino, ma perché noi conosciamo il territorio, noi parliamo con le persone, parliamo con i nostri colleghi, vediamo la viabilità, vediamo le persone come si muovono, quindi siamo quelle antenne presenti fisicamente che possono essere veramente un elemento strategico di sviluppo. Oggi si parla appunto di sviluppo urbano. Questa riflessione infatti ci introduce alla rigenerazione urbana, che molto a Roma è ruota intorno al vostro mondo, è come se voi foste coloro che contribuiscono in maniera essenziale a tenere insieme un tessuto locale e quindi anche una comunità. Però la rigenerazione urbana è fatta di tanto, è fatta di culture, è fatta di sostenibilità, di transizione, di tutte parole d'ordine che poi concretamente si declinano nella quotidianità. Questa può essere considerata la sfida del momento? Sì, la sfida è oggi rendere i territori piacevoli da vivere e da visitare, perché l'offerta oggi la puoi soddisfare velocemente, anche col mondo online, se hai un bisogno velocemente puoi trovare una risposta al tuo bisogno. Quindi quello che bisogna costruire è un'esperienza, un'esperienza di acquisto nel nostro caso, un'esperienza di mobilità per il cittadino, cioè deve viverla positivamente, nel miglior modo possibile. Quindi l'integrazione di tante realtà è forse la chiave di successo, cioè tu devi costruire un territorio che sia facilmente raggiungibile, che sia comodo nel trovare il parcheggio, che ci siano delle attrattività per le famiglie e per i bambini, quindi quando arriva una famiglia possa trovare qualcosa per accontentare le esigenze dei propri bambini, che arrivano gli anziani e possono trovare qualcosa per soddisfare le loro esigenze. Allora a quel punto il contesto del commercio che si trova in questa macro atmosfera ne può assolutamente giovare, perché va a quel punto a inserire un ulteriore elemento importante per l'esperienza d'acquisto, perché poi il cliente va, entra in un negozio, vive, e anche in quel caso il negozio si deve ammodernare, si deve sviluppare in un'ottica chiaramente più tecnologica, anche il negozio deve far vivere al proprio interno un'esperienza differente. Però ecco, questa cosa qua, messa insieme, può rilanciare al meglio le attività, può rilanciare al meglio le città e rendere anche piacevole, ripeto, l'esperienza di vissuto e di acquisto del cittadino in questi territori. Sì, devo anche dire che lei, dal punto di vista delle competenze, ne sta citando tante in queste risposte, lei è sempre stato un pioniere, ci conosciamo da tanti anni e mi parlava di concetti analoghi quando non ne parlava ancora nessuno in questo territorio e li ne do atto. Dopodiché oggi il tema delle competenze è diventato fondamentale e penso per esempio ai distretti urbani del commercio, ai bandi della regione, ai bandi europei, a tutto ciò che obiettivamente porta risorse, però obiettivamente va anche, capito, compreso, intercettato, declinato e serve qualcuno che sappia fare tutte queste cose, quindi fare bene il negoziante non basta. Allora, da quel lato c'è una rispondenza adeguata alle risorse che effettivamente si potrebbero intercettare? C'è la capacità del territorio di assorbirle? Allora, è chiaro che il tema è complesso perché quando fai interventi urbanistici poi vai un po' a sconvolgere gli equilibri e quindi molte volte il cambiamento fa abbastanza paura, quindi il vero tema è cercare di acquisire l'informazione, mettere intorno a un tavolo gli stakeholder e le figure magari chiave, sia politiche che private, che verranno coinvolte in quel tipo di azione e fare una sorta di brainstorming su quello che è l'opportunità e quello che bisogna fare e poi una volta che si è definito che il progetto è credibile, produttivo e porterà dei benefici andare avanti e crederci sostanzialmente, perché è chiaro che quello che percepisco anch'io quando mi confronto con i miei colleghi, quando c'è da fare un intervento urbanistico c'è il timore, ma attenzione se qua poi non c'è il parcheggio e se poi non passano le macchine. Bisogna cercare innanzitutto affrontare con la consapevolezza di avere dei dati, i dati importanti, non farlo così perché ci sono dei soldi e allora a caso mettere giù le cose. Avere una visione, quindi se questo pezzettino che andiamo a fare oggi in una visione complessiva, come si colloca, è il primo tassello di un progetto più importante, bene, allora è più facile anche prendere una decisione quando sai che quella è la prima parte di un progetto più grande e più articolato che ci porterà in una certa direzione. Questo è il lavoro sicuramente più difficile da fare, ma allo stesso tempo più importante. A volte in passato si sono fatti interventi un po' così a caso sui territori, perché magari era arrivato un bando, c'erano delle risorse o c'era l'idea di qualcuno. Se non è incasellato perfettamente in un piano, in una visione, a volte questi progetti poi hanno l'effetto contrario, quindi o di risultato negativo o anche dal punto di vista mediatico o di percezione non accettato. Quindi l'idea dei distretti è stata sicuramente una delle idee più vincenti che il nostro territorio, direi come regione Lombardia, perché nasce in regione il progetto dei distretti, perché ha fatto per la prima volta incontrare il pubblico e il privato. Li ha fatti dialogare con l'obiettivo assieme di trovare una soluzione, perché i soldi arrivavano solo se il progetto veniva condiviso da entrambe le parti. Allora un passettino indietro lo doveva fare magari la parte privata, un passettino indietro lo doveva fare la parte pubblica, ma l'obiettivo finale era una condivisione strategica che alla medio-lunga distanza avrebbe portato un beneficio per tutti. E oggi devo dire che a distanza ormai di 15 anni dalla nascita dei distretti del commercio, in provincia di Varese ne abbiamo 22, tra distretti diffusi e distretti urbani e tutti, più che meno, ha un livello di operatività e ormai di consapevolezza del lavoro all'interno del proprio territorio virtuosa, molto vincente. Volevo parlare un po' di giovani con lei, anche questo è un tema che so esserle caro, un tempo, beh non un tempo, anche adesso a livello di impresa in generale il passaggio generazionale è sempre un'enorme questione. Credo però che parlare di giovani non significhi solo parlare del caso specifico di passaggio da padre al figlio, ma significhi guardare il rapporto che c'è tra ciò che fanno gli adulti oggi e quello che potranno fare gli adulti di domani, in un mondo che cambia e che a mio avviso, dal punto di vista giovanile, accusa il colpo in termini di fragilità, in termini di incertezza, in termini di robustezza. Ecco, voi siete molto attenti su questo fronte, sia sul piano formativo, sia anche sul piano degli scambi culturali, so per esempio che avete un ruolo centrale nell'Erasmus, spendiamo qualche parola su questo. Sì, allora sono due, allora innanzitutto io personalmente ci tengo molto a questo concetto di giovani nel mondo del terziario o dell'impresa a 360 gradi, su due aspetti, uno essere imprenditore e due chiaramente avere dei collaboratori giovani, che sono due visioni differenti, quindi dalla parte dell'imprenditore abbiamo bisogno di giovani che facciano questo cambio generazionale, ma non solo da padre a figlio, ma anche di insediamento di nuove attività, magari di nuove generazioni, con magari tendenze nuove che arrivano magari da mercati anche internazionali, che portino un po' di freschezza all'interno dei nostri territori. E' chiaro che la sfida oggi è molto complicata, ripeto, non basta essere bravo a fare un cocktail per poter aprire un pubblico esercizio sostanzialmente, o avere un gruppo di amici e quindi dire, beh allora ho la compagnia di 30 ragazzi, quindi posso partire perché ho sicuramente tutte le sere un ingresso economico, non è più sufficiente. Oggi bisogna avere una preparazione di un certo tipo, ci sono degli investimenti importanti da fare e quindi bisogna partire con una chiara visione di un business plan, nel quale poter capire se ci sono le condizioni o meno, non cercare di aprire solo ciò che è di moda in quel momento, perché se è già di moda probabilmente si arriverà in ritardo e arrivando in ritardo anche perché il tempo di durata di una moda rispetto al passato sono mesi, non sono anni come era magari negli anni 90, nel 2000 e quindi tu devi arrivare nel momento giusto e devi essere magari uno dei pochi all'interno di quel tessuto, deve essere un tessuto magari equilibrato, dove ci devono essere tante attività differenti per accontentare anche un'offerta e una domanda diversificata. Per fare questo noi chiaramente come associazione ci stiamo attivando molto dal punto di vista formativo, dal punto di vista consulenziale, ma anche perché l'associazione è formata da imprenditori, quindi noi siamo fisicamente sul campo, quindi se arriva un mio collega, io lo vedo come collega, non lo vedo come concorrente, perché se mi porta un beneficio alla mia città arriva anche solo un cliente in più grazie a lui, è un cliente che poi nel camminare può fermarsi anche davanti alla mia vetrina e quindi comprare anche da me, quindi non c'è più come poteva essere in passato una competizione e se arriva un altro mi porta via, è chiaro che se abbiamo già 10 pubblici esercizi in una via e mi arriva l'undicesimo, ecco quello veramente potrebbe essere quell'elemento in più. E anche in questo il coordinamento tra agenti immobiliari, tra uffici comunali e tra il mondo delle associazioni di categoria può essere fondamentale per costruire quel comparto commerciale ben distribuito dove ci possono essere opportunità per tutti e aiutare tutti a crescere, quindi i giovani sono fondamentali da quel punto di vista. Dall'altro punto di vista è per avvicinarli al mondo come anche collaboratori, dipendenti, soprattutto nel mondo dei pubblici esercizi, dove se vi ricordate dal 2022, insomma quando il Covid, nella primavera del 2022, quando il Covid stava allentando la stretta e iniziavamo a vedere un'estate con la gente, i turisti che tornavano, c'era difficoltà a trovare persone che arrivavano nelle nostre aziende. Questo era magari il problema emergenziale di allora. Oggi quello che possiamo fare noi è avvicinarci al mondo delle scuole, sia gli istituti tecnici ma anche gli ITS e cercare con loro di costruire una formazione adeguata che sia pronta nel momento in cui stai studiando a entrare subito nel mondo del lavoro, quindi con la competenza giusta, con la psicologia giusta per affrontare il mercato e i clienti e quindi essere pronto per essere al fianco dell'imprenditore o anche essere un nuovo imprenditore. Per fare questo noi chiaramente ci confrontiamo tanto con gli istituti tecnici, con i docenti e nel caso specifico del progetto che citavi, quello di Erasmus, siamo capofila di una decina di istituti trasversali tecnici, quindi nel settore alberghiero digitale del marketing nel supportare questo percorso formativo all'estero di centinaia di ragazzi in tre anni che potranno abbinare una competenza tecnica a un'esperienza anche all'estero con la speranza che al loro ritorno, maturando ulteriormente la loro conoscenza, la loro capacità, possono entrare un pochino più convinti, un pochino più stimolati e più preparati nel nostro mondo, quel mondo del terziario. Però Presidente è anche una questione di modelli spesso, io ho assistito ad alcuni momenti di matching per esempio che voi avete organizzato o contribuito a organizzare, il mondo dei pubblici esercizi, il mondo della ristorazione, del turismo in generale, il mondo che la rappresenta è un mondo fatto di fatica, di lavoro, di passione e di entusiasmo, ma anche di contributo fisico e di stress, certo e se un giovanotto le rispondesse, vabbè Presidente perché tutta questa fatica, io cerco di diventare un influencer, ci sono ragazzi che nel mondo guadagnano centinaia di miliardi di Euro accendendo una webcam e stando fermi senza fare niente, cioè non serve neanche tutta quella competenza di cui parliamo da 20 minuti, cosa risponderebbe? Rispondo che chiaramente l'attenzione oggi dei social è importante per il giovane perché lì ci vive quotidianamente, quindi l'emulazione di vedere amici, colleghi, coetani che hanno preso un certo percorso è sicuramente attrattiva, il tema è un po' come il calciatore, tutti vedono i calciatori e vorrebbero diventare dei calciatori, peccato che magari giochi per 10-15 anni e poi ti trovi a giocare in una squadra al massimo di eccellenza dove a un certo punto quando hai finito e sei arrivato a 18 anni dici beh adesso cosa faccio della vita, il calciatore non lo posso più fare perché mi sono giocato le mie carte, devo tornare il mondo del lavoro e lì ti devi rimboccare le maniche, quindi il messaggio secondo me è un po' lo stesso, oggi l'influencer è un po' una moda, è un po' il tema del momento che non può durare tutta la vita, saranno pochi l'influencer che a 15-10-15-20 anni per 50 anni ancora riusciranno a fare l'influencer perché è un tema veloce, è un mercato durissimo perché tu devi sempre tenere un certo livello di attenzione e quando inizi a scendere difficilmente poi potrai risalire, quindi oggi bisogna farsi delle esperienze fisiche, poi puoi fare esperienze virtuali, esperienze fisiche e allargare la tua competenza, la tua conoscenza, ma abbandonare il concetto di fisicità dal mio punto di vista sarà un grosso errore anche perché insomma il tema di oggi l'intelligenza artificiale ci metterà veramente a dura prova dal punto di vista non fisico perché ci sarà magari qualcun altro che farà certe cose che oggi sta facendo un professionista, mentre la parte fisica forse ci vorrà ancora un po' prima che l'intelligenza artificiale possa fare quello che noi fisicamente riusciamo a fare, quindi io consiglio al giovane di assolutamente non desistere dal punto di vista della sua passione magari social, digitale perché comunque è il presente e sarà sempre più il futuro, però neanche di abbandonare l'acquisizione di skills e di competenze fisiche perché quelle ti serviranno sempre nella vita. Grazie, grazie al Presidente Rodicollini, a rinanzione a presto e grazie a voi tutti.